Tanti di noi siamo stati a Rimini, eppure io vi dico che questa sera Rimini rimpicciolita si è radunata qui. Con la stessa gioia e con lo stesso fuoco, ma io vi dico ancora che se là in 10-15 mila c'era tanto fuoco, qui il medesimo fuoco e la medesima luce vogliamo fare spritzare in 3-4 mila persone. Grazie a tutti. Qui fare la relazione che compete al relatore, cioè al coordinatore padre di Stefano. La relazione da lui sul tema proposto. Io mi limiterò a conversare con voi e a puntualizzare, a sottolineare alcuni punti che interessano il primo rinnovamento dopo 10-11 anni di cammino è chiamato a compiere una svolta e a radicarsi per poter essere fermento e conseguire quello scopo per cui lo Spirito Santo lo ha posto nel crembo della Chiesa. Ricordate la parabola evangelica? La donna, la donna, la buona Massaia, che ha presto il lievito, un pugno di lievito e lo ha messo in tre staia di farina. Una grande massa, una grande massa, una grande impastata, 120 chili con un pugno di lievito. Ma la donna sapeva che il lievito era un lievito eccellente, forte, fermentante, per cui mise con fiducia quel pugno di lievito in tre staia di farina, in questa grande impastata. E dice il testo, e dice il testo, e aspettò che la massa fermentasse tutta. Questa donna, questa donna che ha messo il pugno di lievito in tre staia di farina, è la sposa dello Spirito Santo. E' lei che lavora la massa dei cristiani insieme con lo sposa dello Spirito. Ed è lei che ha ricevuto dallo Spirito quel pugno di lievito e lo ha messo nelle tre staia di farina, nel popolo battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. E adesso questa donna attende, attende che tutta la massa fermenti. E' la Chiesa che attende la fermentazione della massa attraverso il pugno di rinnovamento che lo Spirito Santo ha messo nel suo grembo. Diceva Paolo Testo, il rinnovamento è una chance per la Chiesa, è l'occasione fortunata, è il momento atteso, perché tutta la Chiesa di questo fermento possa aggiavarsi e possa rinnovarsi. Dobbiamo essere coscienti, fratelli e sorelle, della nostra responsabilità, l'essere noi questo fermento. L'essere noi, un pugno di rinnovamento nella Chiesa, il Concilio, usurpando, facendo proprio un termine biblico che troviamo in Giovanni, che troviamo in Paolo, parla di rinnovamento della Chiesa, quando ancora il rinnovamento non era nato, ma il Concilio è profetico. E tra le tante prevedie ha parlato di rinnovamento e dei carismi che sarebbero germinati nella Chiesa insieme con il rinnovamento. Ebbene, il rinnovamento nella Chiesa lo ha posto lo Spirito Santo. E noi non siamo tutti rinnovamento, ma siamo una forza di rinnovamento, quello che porta più impressa la forza dello Spirito, la voce dello Spirito, l'impatto dello Spirito. Quello rinnovamento che, con i carismi di cui è dotato, deve far germinare nella Chiesa un nuovo volto e far risplendere la Chiesa come segno di Cristo, come strumento di salvezza. Noi dobbiamo essere coscienti dell'un ruolo che Dio ci ha affidato e guai se questa scienza dovesse fallire, guai se questo fermento dovesse irrangilirsi o dovesse perdere la sua forza di evitante. Ecco perché questa tira io vorrei invitarvi ad una riflessione, ad una rilettura del cammino che abbiamo fatto e del cammino che dobbiamo fare. il cammino che abbiamo fatto che così è avvenuto in dieci, dodici anni di rinnovamento nella nostra Sicilia abbiamo noi inciso e in quale misura noi abbiamo inciso nella vita della Chiesa nella vita della società siciliana? Perché se non avessimo inciso nulla potremmo fare le valigie e tornarsene a casa? Avremmo fallito il nostro scopo di essere abbiamo inciso noi ecco una prima domanda ed ecco un primo sguardo che dobbiamo noi fare a ritroso guardando in retrospettiva al nostro cammino e lo facciamo nella luce dello Spirito non per il compiacimento né per avvidimento ma per vedere quello che lo Spirito ha fatto e quello che ancora non ha fatto perché noi non abbiamo risposto sufficientemente la sua voce dieci anni dodici anni di cammino che cosa lo Spirito ha fatto il primo cardine su cui il rinnovamento foggia è il rinnovamento della vita di preghiera della preghiera nella Chiesa il primato della preghiera nella Chiesa i documenti posti consigliari ribattono su questo punto e vi ribattono non senza un influsso del rinnovamento nello Spirito la Chiesa ha sentito l'impatto l'impatto di questo movimento nato nel suo grembo e in tutti i documenti magisteriali si parla dello Spirito si parla della preghiera si parla dei carismi in una maniera di cui mai si era sentito parlare nei tempi preconciliari dobbiamo dire che la Chiesa ha accusato il colpo del rinnovamento dello Spirito la preghiera nella Chiesa viene ristabilita la preghiera perché è la vita della Chiesa per noi del rinnovamento la preghiera è il momento forte che non dobbiamo lasciare attenuare nel fervore e nell'impegno se dovesse cadere la preghiera se dovesse cadere di tono la preghiera di rode noi andremmo verso la rovina perché è il primo scopo che lo Spirito si è previsto dando il rinnovamento alla Chiesa e la restaurazione della preghiera la preghiera la preghiera è necessaria alla Chiesa più che l'azione se dovesse mancare la preghiera mancherebbe la forza di combattimento alla Chiesa ecco perché dobbiamo insistere nella preghiera e bene guardando a ritrovo noi dobbiamo rallegrarsi per l'azione dello Spirito nella nostra Sicilia in dieci anni i gruppi di preghiera sono aumentati oltre cento gruppi di preghiera pensate quante voci si levano al Signore ogni giorno qui dalla Sicilia da questa terra benedetta da questa terra di Maria dove la prima volta ha buttato lo Spirito prima che in America con un accenno al rinnovamento ai carismi fu qui a Palermo che nel 1947 venti anni prima aveva bussato lo Spirito con un'espressione di carismi esplosione che fu messa a tacere ma che lo Spirito riservò a venti anni dopo e bene qui in Sicilia in questa terra benedetta dove prima aveva bussato lo Spirito perché si apriste le porte a lui qui in questa terra benedetta oltre cento gruppi sono cento dieci oltre cento gruppi pregano durante la settimana migliaia e migliaia di persone diecimila persone che pregano ogni giorno ci sono migliaia e migliaia di voci che si innalzano al cielo una forza potente nella chiesa una tenda che si espande a proteggere la cristianità una forza meravigliosa e combattere lo a